Ciao a tutti ragazzi, oggi sono Itzy di ottobre 28 Watt e sono da solo, sono nel mio server e niente. Se ti piacerebbe essere da solo? No ragazzi no, cioè, no come i compagni amici è sempre un amico. Quando io bleppo il 43,16 io non me ne andrò mai da qui, come potete vedere ragazzi, se state guardando il mio video vedete la mia skin d'arciere, che però avrà anche lui, perché noi non siamo dei premi, siamo dei poveri SP. Esatto, e quindi ragazzi io ho semplicemente modificato Char, perché il cosiddetto genio qui, signori, non riesce col suo computer che ha Windows 8 a mettersi Minecraft Proxy. Allora ragazzi, un'altra cosa, non so se voi vedete di tutte le cose, sulla sperduta, mappa, eccetera, perché io e il mio amico BlackWallt43,16 stiamo facendo una custom map, che tra qualche video la faremo, diciamo, un po' conoscere. Tra qualche video, potremmo anche caricarle insieme a un episodio, perché dopo tutto, con gli episodi non c'entra proprio una bella. Allora, una cosa, ma oggi, qual era l'obiettivo di oggi? Ah, giusto ragazzi, io ho tre esmeraldoli, perché ho, forse anche lì, non mi ricordo, perché tre esmeraldoli ragazzi? Perché ho trovato un villicolo. Quindi io adesso, quindi io adesso, non so perché è così lontano da, ovviamente l'avrà catturata una strega, perché ragazzi sappiamo che ora chi sono le streghe, ecco. Non andare da quella parte, anche... Ragazzi, oggi non ho neanche la race minima. Allora, ragazzi, l'obiettivo... Ecco, il villico, il santo villico. Ragazzi, vi volevo dire una prima cosa. BlackWallt43,16, era andato, non lo so, voleva, aveva camminato, era arrivato fino alla giungla. Questa giungla si trova avvicinato allo spawn. Ciao, villico. Ah, giusto ragazzi, se noi ci dovessimo avvicinare allo spawn, vi avvertiamo subito che lo spawn è fatto completamente di blocchi di ferro. Questo perché, per esempio, per trasportarvi voi, cioè, dallo spawn fino alla custom map. Adesso vieni con me che andiamo in caverna. No, cioè ragazzi, io ho già trovato dei diamanti, perché devo andare in caverna? Ma scusa, come le fate? No, io non ci credo. Allora, io ho cominciato a bucare sotto il mio culo. Sotto il mio culo? Sotto il mio culo. E pian piano scavandolo ho trovato dei diamanti, ho trovato una galleria, le classiche dei minatori. Allora, con questa galleria ho detto, vabbè, dai, sotto nelle gallerie io c'è culo, trovo i diamanti. E così ho usato una vecchia tecnica che, in pratica, consiste nel scavare un blocco. Ragazzi, ho detto che mi ha suonato un coso al telefono, arrivo subito. Ragazzi, eccomi, ritornando, scusate, la mia sorella mi ha chiesto come... Sono morte l'ogga. Gli hava quel piccone di diamante? No, non scavare qui! No, ragazzi, io lo banno, io lo banno. Non lo vedete più su questo server, la Black Wolf. Ok, ciao a tutti, ragazzi. È stato un piacere, è stato un piacere avervi conosciuto, ragazzi. Ciao a tutti, addio. No, ragazzi, non lo fa davvero perché vi servo. No, che brutta l'armatura, se la tengo di giallo, spero che è già nera. Ragazzi, la devo sfruttare. Sfruttare? No, ragazzi. Perché l'idea della custom map, in realtà. Posso spoilerare un po', dato che l'idea mia si spoiler? No, 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 tu non spoilerai niente, perché l'hai fatto sul server mio. Io ti ho aiutata così, ti ho fatto solamente... Insomma, ragazzi, hai aiutato. Aiuta... Ma i meccanismi non mi hai aiutato. Allora, io ho fatto quasi sempre tutto... Eh, a posto, ti hai fatto i meccanismi, pochi altro. Sì, i meccanismi, la parte interna, la parte esterna. Ragazzi, noi parliamo così perché non vogliamo spoilerare. Dai, vieni, vieni, vieni. Io hai fatto quella cosa lunga, è soltanto il contorno. Diciamo, io ho fatto l'interno della cosa lunga. Ah, io ho fatto pure le torri, va bene. Ecco, hai spoilerato. Allora, io non ho a torcia. Neanch'io. Dai, mi faccio... Mi faccio, allora... Mi serve un po' di pietra. Te la prendo io che ho il piccolo in diamante. Ok. La 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 la... Trollando qualcuno. La 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 la... Trollando qualcuno. La 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 la... Mi devo fare la tarbonella. Con la fornata mia. Ah, giusto. I ragazzi, io naturalmente... Ah, guardate, questa cosa la dico perché tanto riguarda il canale mio. Oggi sono riuscito finalmente, dopo un po' di tempo, a installarmi una bellissima mod. Se vuoi, ve lo dico subito io. Sì, va bene. Su casa non è una mod, ma è una mod. Bacca, così si può capire. Sì, è vero. E in realtà il ragazzo è una mod. E comprende un bel pochito di mod. In pratica, tra cui la Zeppelin mod. Che ormai non si chiama più Zeppelin, ma Aircraft mod. Perché... Perché il tipo che l'ha fatta era Tirchio. C'è Tirchio, insomma. È scemo. Quindi... Ragazzi, non so cosa sto dicendo. Non posso cuocere questo. Metti dentro il legno quello puro. Brossa. Puro di campagna. E il tipo che l'ha creata ha deciso di creare un unico blocco. E quindi ci sarà un Pixis a posto dei quattro blocchi precedenti. E in pratica è una serie in cui tu sei un pirata. In pratica saresti un pirata. È tutta una mappa di oceano. Anche se c'è qualche isola per rifornirci ogni tanto. Cioè, non ci vado mai. Anche perché ci sono dei dungeon terribilmente enormi. E... Sì, perché ragazzi, ho già... Ho già cominciato. Un po' di legno perché bisogna farti i bastoncini finus per le torche. I bastoncini finus? Cioè, ragazzi, i bastoncini finus. Oh, guarda che dal sisano mi sembra pure in offerta. Dal sisano pure in offerta. Quindi tipo 20 euro un bastoncino finus. Ragazzi, dopo di questa, chi di voi lo ammazzerebbe? Ah, nessuno. Tutti, 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 tutti. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, vi volevo dire. Scusate se per quel periodo... Cioè, per qualche periodo non abbiamo caricato video. Mi sembra... Sai che questa cosa non ha senso? Perché... Perché noi ci conosciamo da cinque giorni, ragazzi. È da cinque giorni che ci conosciamo. E tipo, tu hai già caricato tre episodi, no? Scusane. Ci conosciamo da cinque giorni e hai caricato tre episodi. Cioè, in pratica, da quando noi due stiamo facendo stasera, lei è sempre caricato ogni giorno perché ti obbligo io. Quindi... No, va bene. Comunque, ragazzi... Cioè, in quattro giorni siamo stati impegnati con un... FaceCrafting. Con un hub. Sì. Il suo ex amico di... Ovvero World of Tanks. Sì, perché sto... Oh, lasciami che mi ha un po' di carbone. Ma te puzzi. Carbonella. Prima il carbonella. Puzzi. Tu puzzi. Tiè, l'ho presa io. Sta bene. Che me ne prega. Sì, ragazzi, noi stiamo qui a fare le gare a chi prende la carbonella. Rendiamoci qua. Eh, ragazzi, mi siamo deprotti. Vabbè, senti, vado in miniera. Ciao. Aspetta. Aspettami. Oddio, non abbiamo messo il timer. Vabbè, più o meno sono cinque minuti che registriamo. Il mio senso del tempo, però, vuole che fa molto schifo e non fidarti. Ma tu sei in caverna. Ma sì, sono sceso. Non vedo niente. Aspettami. Oddio, sono qua. Mamma mia, ragazzi, che palle sto qui. Ragazzi, non lo vedo. C'è ogni volta sto qua a sclera. Ma un bambino di 12 anni, arteriosclerotico. Ho detto la tua età. Ecco, ti sta bene. No, ragazzi, non ce la faccio a fare una serie con lui. Mi fa schifarare. U del ferro. O uno zombie. U del carbone. Tra un po' dirò... Tra un po' dirò... Per me, tra un po' dirò... U di chiamare. Passa da questa parte, no? Infatti, se no... Aspetta, devo farmi la piattaforma. La piattaforma. Eh sì, se no... Mi va tutto in... Ecco. Carbone, carbone, carbone. C'è, ragazzi, io non so questa idea. Perché tutti e due dobbiamo andare in miniera? Ma una domanda, ma scusa, ma... Ancora, Omar. Ma perché non ci sono mobba ancora? Eh, ho appena ammazzato uno zombie, io, veramente. Ah, allora. E sento dei ragni che muoiono. No, sento dei ragni e basta, scherzato. Allora... Dicete il carbone. Eh, lo vado a prenderio. Però non ti avanzare da tanto, perché dobbiamo andare, dobbiamo stare sempre uniti nei cosi. Sì, Massimo, uno scadola. No, per il golf, siamo una cosa sola oramai. Perché ci si sa da tanto tempo. Ahia, maledetto ragno, muori! Sì, altro filo. Allora, non ho la canna da pesca dietro. Maledizione. Magari uno di questi giorni io scappo, così lui non mi trova, e vado a farmi una pescatina. Sì. Ma scusa, ma fa la prima pescatina? Sì, nella roccia. Perché? Perché io pesco dalla roccia, secondo te. Allora, tu dove sei andato? Ok, aspetta che torni indietro, anche perché c'è uno scheletro che mi sta venendo a uccidere. Ah, paura. Aia, mi ha ficcato una freccia in cul. Aia, due frecci in cul. Eh, io l'ho detto di Yonzer insieme a me, ma andate che tu sei n'ha. Aspetta che ti vedo, ok. Sinistra, tranquilla. Ah, ho lasciato del ferro. Lol. Il ferro, fa pure tanto il ferro. Ah, ecco, altro ferro. Aia! Ah, è lo scheletro, lo scheletro, ma fappone. È lo scheletro, lo pavone. Mori, 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 stronti, stronti, stronti. No, questo qui non è lo scheletro. Ah, sì, ecco, io ero venuto di qua. Ah, no, è una caverna unica, allora. Ok, ragazzi, abbiamo appena scoperto che è una caverna unica. È un fail, questa caverna? No, nel senso, no, nel senso, pensavo che si dividesse in due parti, invece è tipo solo una circonferenza, buono. Una cosa spastica. Sì, ma ragazzi, davvero, cioè, io non so, l'episodio in caverna, cioè, è il primo episodio che anch'io faccio il film dopo aver sistemato i miei problemi tecnici. Ma è il ferro, guarda. Sì, infatti lo sto scavando da qua. E che guarda che era tanto, non so, non so, ed ha anche tanta esperienza. Ecco, non devo parlare di esperienza. Ciao, 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 ciao. No, ha finito. Oddio, quest'acqua del capio. Io odio l'acqua, ragazzi, io odio l'acqua, odio le miniere, odio i creeper, odio scavare. No, odio scavare, ma se tu sei un errore scavatore. Ma ti piacerebbe? Sono un creeper ciccio bello. Ciccio bello? Ciccio bello, come era? Ciccio bello ha la bue, vuole te. Ciccio bello ha la bue, vuole Black Wolf. No, grazie. Non sono pronto per diventare padre. Sei troppo giovane. Appunto, sei troppo giovane davvero. Quindi, per favore, rimandiamo di un po' di periodi. Grazie, grazie. Perché ho preso questa roccia? Ciccio, ragazzi, non so se vi ricordate, ma in qualche beta fa, cioè, conflu qua, qualche beta fa, pure tanto tempo fa, tipo... Qualche beta fa, tanto tempo fa? Quanto stai pigliando per il culo? Guarda, ma tu stai pigliando per il culo. Stai zitto. Un po' all'inizio di Minecraft, il ferro era lì. Oddio. Era molto difficile da trovare, adesso invece... ORO, oro! Adesso il ferro si può sprecare come si vuole. Sì, è vero. No, te... Ho trovato un botto di oro. L'oro? L'oro ci potrebbe servire per le pozioni di guarigione, sì. E basta. Ah no, potresti craftarti un piccone d'oro, già che ci sei. Anzi, anche io mi crafto un piccone d'oro, non voglio sprecare già quello in diamante. No, io non te lo do ogni oro. Ebbene, non ho problemi. Cioè, te lo do, però non voglio quello spragli in coltavolare. DIAMANTE! Vedete, ragazzi, se io trovi diamanti ai tuoi ghi, GAMONT! Se lo trovo al mio... Oddio, un creeper! Un ragno! Oh no! Oh no! Oh no! Aiuto! No! 100 creeper! 3 creeper! Che cazzo! Ma il gioco! Una gioco! Adesso si festiva si festiva si festiva. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Ragazzi, dov'è andare ad aiutarlo, forse. Sono un pro, sono un pro, sono un pro, ce la sto facendo, ce la sto facendo. Ragazzi, io non so dov'è, però. Ah, forse, aspetta, tu eri venuto così di qua, vero, sì. È un creeper! Un creeper! Vieni nell'acqua, creeper! Non sto, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire! Ragazzi, stop un attimo la registrazione, ci vediamo dopo.